salve pronti ad esaminare un altro giocone della weird edizioni ne parliamo dopo la sigla ciao a tutti e bentornati nella mia stanza allora il gioco di cui parliamo oggi è uscito dato un colpo al microfono è uscito qualche anno fa per weird edizioni io l'ho comprato su un noto usato su un noto sito di e commerce e sto parlando di the genesis black edition the genesis rebert black edition eccolo qua sono due volumoni per un totale di quasi 700 pagine e noi splitteremo la recensione in due parti oggi parliamo della prima del primo volume primal punk e lunedì prossimo parleremo di catarsis che è il secondo allora sta black edition è una cosa meravigliosa ringrazio chi mi ha venduto usato questo perché era c'era un piccolo danno da trasporto e quindi me l'ha dato scontato ed è questo in principio non vi era alcuna luce questo è il librone che costituisce il primo volume primal punk interamente a colori ora gli diamo gli diamo una bellissima occhiata ma se voi ce l'avete sapete già che sono 350 pagine di puro godimento allora io devo essere sincero come sempre quando ho visto che usciva the genesis io ho reputato che non fosse un granché come gioco l'ammetto io l'avevo totalmente saltato non l'avevo proprio preso minimamente in considerazione perché pensavo che fosse un oggetto bello ma poco funzionale e poco giocabile un altro post apocalittico quindi era un po' era un po' scettico devo essere devo essere sincero poi ho seguito un po' tutti i problemi che ha avuto weird per stargli per creare insomma per creare per star dietro a the genesis traduzioni problemi legati alla distribuzione eccetera eccetera quindi ho deciso proprio di saltarlo di saltarla più pari ed era un grosso errore the genesis è un grosso non prendere the genesis è un grosso grossissimo errore ve lo dico dopo averlo letto è un'opera che la prima volta che leggi primal punk ti sembra di aver visto pulp fiction cioè non ci ha capito un cazzo non ci ha capito niente lo devi rileggere una seconda volta stessa cosa dopo che hai letto catarsis dopo che hai letto catarsis la prima volta lo devi leggere una seconda perché non ci ha capito niente quando hai finito di leggere catarsis la seconda volta puoi riprendere primal punk una terza volta e te lo rileggi questo è quello che deve fare il master per giocare a di genesis bisogna che si legga tutto per lo meno due volte e al giorno d'oggi leggere due manualoni da 370 pagine l'uno è un impegno non indifferente questo devo essere devo essere veramente sincero però quando poi l'avete letto tutto capirete che di genesis è veramente tanta tanta roba allora parliamo un po di genesis nasce dalla mente malata perché non si può usare altri termini di christian gunter e marco giurjevic pubblicato dalla casa editrice six more vodka che è uno studio di design di berlino la prima edizione è del 2004 la rebert che è quella che weird ha portato in italia è del 2014 allora è un post apocalittico sì è un horror sì è un gioco che si gioca sulla nostra terra no è un gioco che fa vedere qualcosa che già conosci no è un gioco originale sì ok quindi è un gioco post apocalittico effettivamente sì anche perché a bomba si parte con un bel sciame d'asteroidi che poi prenderà il nome di eschaton che nel 2073 distrugge colpisce il nostro pianeta ma niente di peggio del primer che sono le spore aliene che è presente sul me sui meteoriti quindi una bella pioggia di meteoriti 2073 passerà la storia per eschaton e quindi a bomba si parte con questa bella apocalittico con questo bella con questa bella apocalisse vi ricorda qualcosa un periodo così breve ricorda mutanti arziro se voi prendete mutanti arziro e lo leggete c'è scritto che 30 anni da oggi un conflitto nucleare causa il crea il mondo post apocalittico di 2073 quindi 2073 oggi è il 2023 quindi fra 50 anni da oggi una pioggia d'asteroidi distruggerà la terra poi si va avanti in questo manuale in primal punk c'è descritta una meravigliosa c'è una meravigliosa cronologia in fondo che ci porta fino al giorno d'oggi 2595 quindi 522 anni dopo eschaton è il momento in cui giocano i nostri personaggi non i nostri eroi e i nostri personaggi quindi già gli umani devono fare il conto con questa apocalisse poi ovviamente c'è da fare il conto col primer che è un virus alieno che viaggiava sulle rocce viaggiava sugli asteroidi e questo primer agganciato al dna umano agganciato al dna umano crea l'uomo de genesis che è un uomo infetto quindi dimuta nell'aspetto nella mente nel corpo gli dona abilità psichiche e oltre a questo il primer trasporta anche una serie di funghi una forma di vita fungina che è chiamata sepsis giusto per non lasciarci nulla che crea enormi campi di spore che disseminano il paesaggio quindi questo è quello che c'è quindi nel 2595 gli umani contaminati psiconauti piante contaminate psicopori sono le più grandi minacce che la civiltà degli uomini dell'uomo sapiens deve affrontare però non c'è solo questo non c'è solamente questo perché nel genere umano nel dna dell'uomo sapiens c'è come al solito anche in questo momento drammatico la lotta per la supremazia la lotta per primeggiare la lotta per conquistare le ultime risorse che sono presenti quindi europa e africa che sono le due stati che sono rimasti due continenti che sono rimasti perché degli altri non sappiamo assolutamente nulla europa e africa l'europa è distrutta e all'interno sono nate tre quattro cinque sei sette sei culture europee che sono divise per natura geografica e sono borca franchi purgare ibri spania e polleniani poi gli altri esistono e sono divisi per geografia poi c'è invece la l'africa che in questo momento sorge come nuova superpotenza perché lo spostamento dell'asse terrestre l'evaporazione del mediterraneo la riduzione dell'oceano atlantico porta praticamente l'africa ad avere un clima mediterraneo ed essere la nuova superpotenza tant'è che qui quando gli africani parlano raccontano sempre la storia del corvo e del leone il corvo ormai l'europa che si nutre di cadaveri su un campo di battaglia il leone africano è quello che è pronto a conquistare la il mondo di degenesis oltre a queste sette culture che sono come si è detto di natura geografica ci sono 13 culti di natura totalmente ideologica quindi ci sono gli anabattisti battisti che sono l'equivalente di pazzi furiosi invasati religiosi ci sono gli apocalittici che ormai sono edonisti e quindi inutile far nulla tanto l'apocalisse è già avvenuta eccetera eccetera gli elvetici continuano ecco quando si parlava di elvetici mi ha fatto ridere che mi sono venuti in mente i nani gli elvetici si interessano soltanto di difendere le proprie fortezze e difendere quello che rimane della della svizzera quindi è veramente un mondo drammatico è un mondo selvaggio è un mondo selvaggio degenesis quindi potresti tranquillamente post apocalittico or potresti farci un survival horror senza problemi quindi l'europa e africa sono delimitate da foreste di psicovori che sono a sud c'è un enorme muro di spore ad est c'è veramente di tutto gli asteroidi che hanno lasciato dei crateri in tutto il mondo poi c'è l'affreddamento globale quello che abbiamo appena detto quindi il mediterraneo si è prosciugato le isole britanniche sono attaccate al continente e veramente c'è tutto ci sono città che si conoscono che magari adesso sono come dire in rovina madrid praga ci sono nuove città come giusti non come volete come volete voi quindi veramente c'è un mondo intero ok allora guardiamo un attimo questo manualone questi sono 370 pagine 350 pagine c'è una mappa che fa male agli occhi a vederla però perché gli oceani sono in rosso guardate qua questa è la mappa questa è la mappa del mondo di the genesis quindi c'è l'africa c'è l'europa ci sono descritti i paesi ma è veramente ora questa immagine non ve la faccio vedere perché il canale è monetizzato cioè basta vedere alcuni esempi spero che la telecamera gli dia il giusto come dire la telecamera dia il giusto risalto a queste immagini cioè sono veramente dei è veramente un manuale che ti lascia a bocca aperta cioè se voi parlate con chi si occupa di grafica chi si occupa di libri illustrati o insomma cose del genere vi può dire tranquillamente che un manuale un manuale del genere potrebbe secondo me viaggiare su 100 euro soltanto 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 questo guardate qui gli apocalittici è veramente una cosa che lascia senza fiato cioè leggerlo e perché vi dico che va a letto tutto due volte va a letto tutto due volte primal punk perché porca mattina perché questo allora perché se giochiamo a star wars nel nostro immaginario c'è star wars giochiamo a cyberpunk nel nostro immaginario c'è cyberpunk da blade runner a johnny mnemonic eccetera cioè nell'ottima c'è questo se giochiamo un gioco di ruolo high fantasy c'è tolkien c'è la terra di mezzo c'è tutto nella nostra mente se giochiamo un mondo low fantasy si può pensare a roba tipo berzer che roba tipo elric cioè quindi nel nostro immaginario gli altri giochi possono tra virgolette dedicarsi pochi game designer possono dedicarsi poco al war building nell'accezione più ampia del termine de genesis no siccome de genesis è un mondo 500 anni avanti a noi con un apocalisse con una pioggia di meteoriti che ha distrutto di tutto di più con delle spore che hanno portato alla mutazione del dna dell'essere umano e qui c'è risolta veramente tante cose con mio tanti al zero perché lì sono le radiazioni che hanno portato l'essere umano ad avere ad avere le mutazioni il war building è fondamentale in un gioco come de genesis e quindi 300 pagine di war building se ci pensate bene 300 pagine come dicono quelli bravi di loro sono più che sufficienti ma dopo che avete letto questo questo bellissimo librone primal punk dovete andarvi a rilegge a studiare catarsis che faremo insieme la prossima settimana e poi dovete rileggervi primal punk perché solo così riuscirete a capire la profondità la bellezza la bellezza di de genesis perché è veramente bello è un post apocalittico veramente bello non saprei allora sono sincero non saprei di primo acchito non saprei di primo acchito come giocarlo perché da talmente tante talmente tante possibilità di gioco se detto un survival un post apocalittico un horror cioè veramente ci si può giocare tutto e quindi questo può essere un problema non è assolutamente un gioco per entry level non lo consiglierei mai a uno che deve cominciare a giocare legiti di genesis perché fargli violenza però metterlo al tavolo e giocarlo con un master che come ho detto se letto un paio di volte primal punk se letto un paio di volte catarsis allora riesce a intavolare una bella campagna una bella avventura secondo me può venire fuori roba molto interessante allora io ho finito ci vediamo la prossima settimana per catarsis in cui si parlerà approfonditamente delle meccaniche spero che il video vi sia piaciuto mettete like come c'è scritto qui condividete abbonatevi al canale perché gli abbonati hanno il vantaggio di vedere i video in anteprima e di poter giocare a le campagne che sono sul canale quindi in questo momento a ctulu e a mage di ascension poi ne partiranno altre ma mano a mano che l'anno prosegue ringrazio gli abbonati ciao e alla prossima ciao